Buongiorno, benvenuti a questa rassegna Spantampa di oggi 30 aprile. Ricordo a tutti quanti voi che questa sera abbiamo anche Matrix in seconda serata, la prima delle grandi interviste che faremo per queste elezioni europee sarà il segretario del PD Zingaretti, ma poi ci sarà il Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia, insomma avremo un sacco di cose da raccontare. Il tema fondamentale della giornata oggi, secondo il Corriere della Sera, ma anche sul messaggero, è la donna violentata a Viterbo. Bufera politica su Casa Pound, dice oggi il Corriere della Sera. C'è chi chiede la chiusura di Casa Pound, c'è chi sostiene che Casa Pound, con questo suo macismo, rappresenti uno stile di vita. In realtà quindi il tema non è più il fascismo di Casa Pound, o meglio non solo il fascismo, ma il fatto che due suoi esponenti, un consigliere comunale di un piccolo comune in provincia di Viterbo, hanno in maniera orribile violentato una persona, come può essere una violenza comunque sempre orribile, ma addirittura filmandola, e questi filmati l'avrebbe la procura, motivo per il quale si darebbe abbastanza per certa questa violenza sessuale. Anche il messaggero dice, uno stupro scuote il governo. Il sottotitolo di questa vicenda, parliamoci chiaro, perché Casa Pound non è al governo, non c'è un parlamentare, non ha nessuna presenza, è ovviamente che si ritiene Salvini vicino a Casa Pound, per due motivi. Ve li dico io così, ve li espliciti in maniera molto semplice. La prima è che nel 2015, quando Salvini fece una manifestazione a Piazza del Popolo per mandar via Renzi, in quella manifestazione ci fu anche l'arrivo di alcuni esponenti di Casa Pound, anzi numerosi, e quindi dal 2015 a oggi è passato un po' di tempo, però quella roba esiste. E poi si sostiene che Salvini non voglia sgomberare le sedi occupate di Casa Pound, mentre si occupi di sgomberare altre sedi occupate. Resta il fatto che Salvini, proprio ieri, tutti i giornali, dice addirittura castrazione chimica, posto che la castrazione chimica, nella stessa proposta di legge di Salvini, e questo mi viene da ridere, è mai obbligatoria, ovviamente, ma è volontaria. Per non andare in carcere mi faccio castrare chimicamente. Di Maio dice, non scherziamo, non è questo il tema da affrontare. Però il sottotitolo di questa vicenda è anche la richiesta che è arrivata questa mattina, addirittura di chiusura di Casa Pound, che è una richiesta che tra poco vedrete sul mio sito, nicolaporro.it. Perché è ridicola? Lo scrive Gervasoni, che non è certo un fascista né un esponente di Casa Pound. Quindi tra poco Gervasoni lo troverete sul sito che vi spiega perché questa richiesta è fuori luogo. Beh, il sottotitolo è una certa destra, i fascisti stanno arrivando più o meno al governo, bisogna stare attenti perché sono anche degli stupratori. Insomma, abbastanza ridicola. Il foglio oggi, insomma, un po' deve mettersi d'accordo con se stesso. Dice che l'Italia è malato d'Europa perché è l'unico paese in cui, dopo le elezioni di Spagnole, in realtà il populismo ha ancora grande forza. Però, e dice che continuerà ad avere grande forza per questa capacità di Salvini e di Di Maio di essere nello stesso tempo governo-opposizione. Ma la cosa che mi stupisce del foglio è che da una parte dice che il populismo sarà il futuro dell'Italia e dall'altra dice che il populismo si è fermato in Sicilia. Il riferimento alle elezioni siciliane in cui la Lega da sola non è andata da nessuna parte. E allora, insomma, è un po' contraddittorio questo populismo che è un po' come la fine del capitalismo in epoca marxista. Cioè è determinato, è sicuro, è certo, però dall'altra parte si è già fermato in Sicilia. Bo, Tria, ministro dell'economia, concede un'intervista, buongiorno Vincenzo, concede un'intervista al Fatto Quotidiano. Dice, sul riguardo all'IVA, che è la cosa fondamentale, perché abbiamo clauso di salvaguardia dell'IVA per 25 miliardi, dice ragazzi, attenzione, perché o facciamo dei tagli seri oppure l'IVA ce la prendiamo in faccia. Insomma, il tema dell'IVA a settembre non è un tema da prendere sotto gamba, un po' come ha fatto in un'intervista Salvini nei giorni scorsi, dicendo, beh, vedrete che... Scusatemi, in Europa ci sarà una maggioranza diversa e quindi sapremo come gestire l'IVA. Oggi escono, per vostra informazione, i dati sul PIL italiano tra poco escono e soprattutto l'asta per 6,5 miliardi di BTP, che sono i due temi economici del giorno. L'altra questione, che è piuttosto singolare, lo notano in maniera diversa i giornali a seconda della loro sensibilità, che ieri c'era aula, cioè sostanzialmente i parlamentari dovevano lavorare dopo dieci giorni di pausa, diciamo, tra ponti e non ponti. Ebbene, i giornali, diciamo, Repubblica e forse anche il Corriere della Sera si sono preoccupati che l'aura fosse deserta quando si discuteva il caso Reggeni. Ci sono fondi dicendo che schifo, che orribile situazione, che c'era un'aula deserta per questo fondamentale caso Reggeni. E dall'altra, invece, altri giornali, Il Tempo, per esempio, invece si lamentano del fatto che l'aura fosse deserta sempre lo stesso giorno, non sul caso Reggeni, ma il fatto si lamenta che fosse deserta nel giorno in cui si discuteva il taglio dei parlamentari. Insomma, ognuno è infelice a modo suo. La cosa sostanziale è che i parlamentari, il 30, essendoci il ponte del primo maggio, non ci sono, come i bambini a scuola. Proprio come i bambini a scuola. Sul caso Siri, che fine ha fatto? Beh, e lì la tesi di Travaglio, forse oggi è quella più condivisibile, cioè lui critica Conte, ma è la sostanza di quello che avviene, e cioè che il Presidente del Consiglio sta prendendo tempo, contando restituit, cioè temporeggiare, come diceva il Principe Massimo, forse serve. Perché serve? Perché cercano di capire come sono le carte, cosa c'è, come poter uscire da questa impasse incredibile che poteva rompere il governo fino a una settimana fa. Vedremo in questi giorni, anche stasera a Matrix, se ci sarà qualche novità. Riguardo al caso Siri, però, il titolo, anche in questo caso del fatto, è piuttosto azzeccato. Le intercettazioni ce l'ha soltanto l'avvocato di Siri, perché ieri è andato in procura, ha preso le carte, queste carte non sono ancora uscite, evidentemente non le ha fatte trapelare l'avvocato, che in questo caso non avrebbe rotto nessun segreto giudiziario, perciò il tema fondamentale è che Conte scappa da Siri, come cita il giornale di oggi. Che altro ci abbiamo? Beh, ecco, il Repubblica invece fa il titolo un po' diverso dagli altri, insomma, Repubblica ha un atteggiamento un po' diverso, molto divertente in questa fase, i suoi titoli sono sempre comunque singolari. Festa del primo maggio, si cita la Costituzione, l'articolo 1 della Costituzione, un giovane su tre non ha un posto, i robot ce li ruberanno, insomma, le cavallette stanno arrivando, è inutile, dice Gad Lerner nel fondo di oggi della Repubblica, è inutile oggi festeggiare il primo maggio, perché in realtà dice stiamo facendo di tutto per distruggere il lavoro. Beh, fantastico, come sempre Italia Oggi che trova le spigolature, perché Italia Oggi dice chi la paga la festa del primo maggio, dei cantanti cazzoni qua che romperanno le balle, facendo questa specie di coretto, iniziando con Bella Ciao, chi paga gli 800 mila euro dei cantanti che festeggiano il primo maggio, il loro lavoro se lo trovano, se lo industrino a trovare, anche grazie alla festa del primo maggio, ve lo dico io, la Rai, cioè noi, 800 mila euro della Rai per il concertone del primo maggio. Chiaro? Tutta questa roba qua ce la racconta Italia Oggi, Oggi sul suo giornale di color giallo. Direi che per oggi è tutto, io vi do appuntamento come sempre, anzi, a partire da oggi, di martedì sera, alle 23.30, su canale 5 per Matrix. E se volete vedere cosa ne pensa Gervasoni, tra poco, dopo aver pubblicato la zuppa, vedrete cosa ne pensa Gervasoni di questa vicenda di Casa Pound. Ciao, ciao Valentina, ciao Antonio, ciao a tutti!